Premio internazionale Enogà 2016 a Fabio Campolo, un premio assolutamente meritato che vuole celebrare un percorso, una ricerca, una quotidianità all'insegna e alla difesa di un settore enogastronomico, agroalimentare, della cucina dei contadini ma non solo. Sì, grazie a voi, grazie ad Enogà, grazie a voi e tutta la commissione perché mi onora, perché so con quale perizia avete studiato e concesso questo premio a Fabio Campoli, quindi sono essenzialmente onorato ma grazie a te per quello che fai, perché per me è andare a rivedere anche tutte le cose che hai già fatto sai che ogni tanto ogni tanto vado a riascoltare l'intervista di Veronelli io torno lì, Enogà, vado dietro, ascolto. È stato un po' in qualche modo il nostro maestro, non potremmo esistere senza l'opera di Veronelli che ancora vive e ancora bisogna studiare, credo che ci sarà un percorso di studio dell'opera di Veronelli. Sì, è importante quello che è stato fatto negli anni, la storia è importantissima, non dobbiamo dimenticarla siamo arrivati al punto dello show, come abbiamo poc'anzi detto però lo show, se non c'è la cultura, la storia, è una fotografia, è un intrattenimento del momento invece quello che cerchiamo di fare con Enogà e tutti quanti noi è di portare quel famoso seme che ci spinge avanti ogni giorno, col desiderio del sapere. Grazie. Grazie.